Un tavolo importante che ha messo insieme, che ha convocato tutte le parti che rappresentano il lavoro e le professioni nella nostra provincia per sottoscrivere un protocollo d'intesa che riguarda la sicurezza. Un tavolo fortemente voluto dal prefetto di Vicenza, Signore Ello, dopo l'ennesimo incidente mortale accaduto a luglio a Valdagno, dove perse la vita un operaio 57enne. In quelle occasioni le rappresentanze sindacali tenero un sitin davanti alla prefettura. Tema quanto mai attuale, solo l'altro giorno un altro operaio a Malo ha perso la vita. Un incontro, quello odierno, con tutte le categorie del mondo del lavoro per dare vita ad un protocollo d'intesa. La prefettura ci ha consegnato un protocollo d'intesa molto importante, ben dettagliato, che oggi ha delle proposte di modifica, delle proposte di approfondimento su alcuni grossi temi. Abbiamo deciso tutti insieme che entro 15 giorni una commissione tecnica svilupperà il test, vedrà le modifiche eventuali da fare. Dopodiché la prefettura ci sottoporrà alla firma. E se la denuncia di chi non rispetta le norme sulla sicurezza non deve venire meno, l'obiettivo primario è di più ampio respiro. Cosa importante è che nel territorio sia un grande patto, un grande patto che rimette al centro il tema della sicurezza per le persone che hanno diritto di tornare a casa quando finiscono il lavoro. E su questo il prefetto sta veramente investendo la sua autorità in maniera abbastanza decisa.